oia ragazzi benvenuti a un nuovo episodio di nuove cose si ci si fa città ok e unisciti al gioco a svegliere signori stiamo andando in una sudia caso mi sono bloccato sullo youtuber mannaggia stop no e no e no e dai e dai e dai per favore io stavo scrivendo youtuber e più di pai più di pai più di pai più di pai ok vabbè chi ha scritto pecora antonio ok io io sono caribù quindi ho scritto bu ma e va bene pig io sono pig e ho scritto porco va bene chi so si hawk con pantera pantera ok ok va bene va bene si 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 squadre ok squadre pascoli e che è pascoli e com'era te pascoli e io ho scritto parma confermata io palermo si e anche io palermo ok andiamo avanti città fox palermo va bene va bene va bene ok professioni fox niente io pescatore pig professore ok portinaio ok pampanella e ruccoli pampanella e ruccoli ok panzerotto panzerotto pollo polena e pulenta va bene ok nome masuane va bene ok caribù ponsio va benissimo paola va bene e paolo io e bevo e io bevo e io bevo ok ok parole di quattro lettere peso va bene di ox ok poi roberto niente io palo e anche io palo ok canzone un saluto un saluto ciao ok ok va bene ma andiamo avanti con questo bravo un ultimo giro comunque al mio malgrado volevo dire che la mia tastiera del computer non mi funziona bene è brutta eh eh presidente presidente ma io mi blocco sempre con i youtuber ma è mai possibile eh 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 ah non è possibile eh 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 no vabbè se continuiamo che non ci sto più eh non ci sto basta non ci sto più basta non ci sto dentro no non ci sto dentro tasso va bene trota tol va bene va bene e topo ok squadre torino va bene tottenham va bene torino va bene torino anch'io va bene ok città toronto va bene trapani va bene teramo va bene e torino va bene professioni taglialegna non esiste? sì per quello cheけ ti esiste esiste? come professioni proprio sì sì il taglialegna boscaioli quelli canadesi il tavaniere paniere non ci sta secondo me ci sta ok grazie anto passiamo avanti il cibo va bene troppie manco tra paniere venite dato buono però è tino ok youtube tomas angri tomas angri tomas angri canzone io mi dimentico sempre allora per esempio non mi viene lo youtuber non mica passa avanti per scrivere altre cose ok conferma risultato ok andiamo Vabbè ci ti voglio di restare, ti voglio essere un l'haverso! Ti voglio essere! Eeeh... un attimo, un attimo... Antonio e Lorenzo, la prossima volta che decidiamo di fare un video, dite Andrea di andare a farsi un giro da qualche parte, va bene? Eeeh, va bene! Ah, a Piazza Costa c'è poi! Va bene! Ok, allora, animale ragazzi, fox! Gatto! Ok, squadre! Ok, città! Città! Chiude quanti c'è, no? Eeeh, professione! De mani che no! Un giocattolo... Sì, perché no? Perché no? Chi l'ha detto? Un giocattolo... Un giocattolaio a ragione Andrea, mi dispiace! Beh, ma avete tolto tassi e liste... No, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione! Togliti! Sì, giardiniere, giardiniere, scusami, scusatemi! Ok, cibo! Garganelli! Va bene! Ok, ok! Ok, youtuber! Fox! Scusami! Fox niente! E io, Giovanni Fois! E io con Giovanni Fois! Ok... Parole di quattro lettere... Gino! Gaio! Io ho scritto quattro... Parole di quattro lettere? D'abbè, sì! Ok! Fanzone! Dattonero! Di chi è? Volevo un dattonero! Dattonero! Ha ragione, ha ragione! Io stavo scrivendo... Io stavo scrivendo... Io stavo scrivendo... Good days! Ma va bene! Va bene! Ok! Dottonero! Io Gianna! Confermiamo? Confermiamo! Diamo avanzi! Avanziamo! Avanziamo! R! Vai giù! Eh... Vai giù! Io! Ehm... 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 Cazzo! Ah, ok... Vabbè... Stop! No... Ok... Pena... Pena vuole! Che cazzo! Eh... Ok... Allora... Animale! Tutti... Ok... Squadre! Roma 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 Roma... Ok... Città! Roma 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 Roma! Ehm... Professioni! Rattolietti! Che cosa sarebbe? Cioè? Cioè? Ma dove andate? Ehm... Io ho scritto... Ramaio! E' quello che... Che laura... Il... Il... Il rame! Credo eh! Rocco! Non nemmeno io! Va bene così! Chiudiamo! Andiamo avanti! Cibo! Rame! Rame! Non volevi dire! Ma io ce l'ho fatto avanti! Rame! Andiamo! Togliamo quest'uomo! R... Ravioli! Robertone! Rame! 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 Fawkes! la rana va bene e roba va bene ok canzone Fox il forno da te di Roberto va bene ok, confirma ho una video che ho scritto qua canzone, che stanno? pure io ho già scritto una bella canzone pure io professioni? vai io professioni manco me ne vanno a me ho già scritto una canzone oh i qual me ne manca un youtuber io mi metto in difficoltà, faccio stop magari ho ne ho scritto pure a te cose animale orango orango ornitorinco ok, squadre otranto ok città Oslo dice Oslo dico anch'io va bene io ne so franto allora huk no huk 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 Ohio è uno stato è uno stato non è una città scusate orto orto fruttaio oratore va bene cibo va bene Orecchiette Ragazzi è stato un onore Un piacere per me essere qui con voi A giocare di nuovo Come direbbero i piemontesi E invece con voi ragazzi Se vi è piaciuto questo video Ovviamente cliccate su Il mi piace Sul pulsantino delle iscrizioni E la campanellina a fianco a destra Bravissimi E ci vediamo A un prossimo video ragazzi Ciao